Si è aperta con un workshop a Taranto la tre giorni dedicata al wound healing tra telemedicina, integrazione e territorio ospedale. Le ulcere croniche rappresentano una sfida continua per gli operatori sanitari impegnati in ambito vulnologico e un grave problema per i pazienti. Il numero di affetti da piaghe da decupito, ulcere degli arti inferiori, lesioni del piede in presenza di diabete, delle scienze di ferite traumatiche o chirurgiche è elevato. Interessa l'1,5, il 3% della popolazione generale. La sola asla di Taranto spende circa 2 milioni di euro all'anno per curare i pazienti affetti da lesioni complesse croniche. Nel 2019 è stato approvato il primo PDTA delle ulcere cutanee dell'asla tarantina e fondata la base della rete aziendale, nominato responsabile il dottore Giancarlo Donnola, una crescita costante, oltre 10.000 le prestazioni erogate nel 2022. Due aspetti molto particolari, il primo è il trattamento dell'infedema in previsione della prossima apertura, ormai imminente apertura anzi direi, del primo ampulatorio per il trattamento degli infedemi primitivi e secondari dell'asla di Taranto. Ci sarà una collaborazione scientifica con la ditta Urgo sia per lo sviluppo di nuove terapie e nuovi bendaggi, sia per quanto riguarda l'acquisizione di notizie scientifiche. La seconda parte è stata dedicata alla pressione negativa, tra miti e falsi miti di questa pressione negativa, in modo da illustrare tutte le tipologie di pressione negativa, quando si deve fare e quando non si deve fare.